Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video quest'oggi andrò a rispondere ad una domanda che sul mio instagram barra youtube mi viene chiesta più o meno 3-4 volte al mese ovvero posso mettere il mulinello da casting su una canna da spinning o viceversa e oggi vi darò 3 ottimi se non fondamentali motivi per cui non farlo dunque mi raccomando ragazzi lasciate like, condividete i video, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti dunque ragazzi se superiamo i 100 like su questo video vi porterò un video dove vi insegno i lanci e come fare al meglio dato che ho visto molti ragazzi che sbagliano completamente la tecnica di lancio dunque direi di non perdere altro tempo e via con la sigla primo motivo l'annellatura l'annellatura nelle canne da spinning e nelle canne da casting è molto differente adesso vi vado a fare un esempio qui ho due canne molto simili una da spinning e una da casting sono circa lunghe gali questa è una 2.15 questa è una 2.10 e hanno un casting molto simile qua abbiamo una 9.18 quella da casting invece su quella da spinning una 5.20 diciamo molto simili il portamulinello è circa la stessa altezza quindi dite ma sono quasi uguali però cambiano molto prima cosa infatti in allenatura come vedete su quella da spinning abbiamo degli anelli a ponte lungo molto distanti dal fusto con un diametro abbastanza grande il diametro grande serve ad accompagnare il mulinello nell'azione di recupero e di lancio con le spire che vengono portate che vanno a stringersi man mano negli anelli e nel recupero perché il filo all'interno farà quasi un giro completo più o meno l'anello a ponte lungo serve principalmente per tenere una linea tra l'uscita del mulinello e il primo anello in modo da incombere in meno attrito possibile quindi a lanci più lunghi invece in quelle da casting come notiamo abbiamo degli anelli molto vicini al fusto e come si può notare anche loro stanno in linea con il mulinello infatti se mettessi questo mulinello da casting su una canada spinning l'effetto sarebbe questo con il filo che è molto distante dal fusto il filo che quindi fa molto più attrito sull'anello e quindi lanci comunque più corti anche se non si fa altra cosa gli anelli da casting sono molto piccoli hanno un diametro molto ristretto come vedete perché il filo invece di dover ruotare per via del recupero del mulinello qua si sposterà solo a destra e sinistra e neanche di tanto di un paio di centimetri diciamo poi varia dal mulinello altra cosa che riguarda molto l'annellatura è il fatto di quanti anelli ci sono se le mettiamo a confronto la canna da casting ha molti più anelli il fatto di avere più anelli e di averli vicino al fusto permette alla piega della canna ovvero con il mulinello da casting di avere una piega dove il filo non va in contatto con il fusto della canna e quindi non rischiamo di rompere il filo perché va a grattare sulla canna o rompere la canna nel caso di fili abbastanza grossi e quindi che vanno a grattare magari un trecciato che va a grattare sul fusto in recuperi o in lancio e quindi a disintegrare il carbonio e portare quindi alla rottura di una canna e primo motivo è andato ci sono un sacco di riscontri sotto però diciamo che è il principale quindi se non volete rompere le canne prendete le canne da casting col mulinello da casting le canne da spinning col mulinello spinning punto secondo punto le canne da casting sono studiate appositamente per un certo tipo di pesca infatti le azioni le lunghezze le grammature sono fatte appositamente per utilizzare un certo tipo di esca ad esempio esiste la canna da jerkbait la canna da crankbait che sono due canne completamente diverse la canna da jig la canna da tex texas la canna da pitching la canna da flipping adesso vi vado a fare un altro esempio quindi prendiamo due canne da casting sono due canne da casting abbastanza simili diciamo entrambe hanno un casting il casting diciamo che non si allontana molto qua abbiamo come detto prima 9-18 qua fatemi vedere qua abbiamo 10-28 sono abbastanza simili diciamo come vedete il fusto cambia molto prima differenza l'anellatura cambia a sua volta qua abbiamo il primo anello il secondo anello come vedete alla base ha un fusto più grosso e rimane comunque più grosso perché questa è una canna da jig quindi deve essere una canna che è in grado di estrarre i pesci da cover e comunque via discorrendo infatti questa è una canna con un'azione adesso vado a leggere medium heavy quindi un'azione molto rigida infatti per tirar fuori i pesci da canneti da airby quello che c'è è anche un pochino più corta tra l'altro questa invece questa che è una canna da pescare a jerkbait ha un'azione completamente diversa altra differenza è che filo possono montare canne per pesche più in cover ad esempio come le canne da jig monteranno fili più pesanti canne da pesca da crank da jerk monteranno fili più leggeri altra nota molto importante è il mulinello infatti canne e mulinello da casting vanno abbinati in base al tipo di pesca infatti la canna per pesca a gomma monterà un mulinello a rapporto molto veloce la canna per la pesca a crank o comunque ad airbait monterà un mulinello molto più lento non fate l'errore che fanno molti che per dire faccio un po' di tutto quindi monto un mulinello lento e una canna più da jig in modo da far tutto no le canne sono fatte per certo tipo di pesca e quindi hanno bisogno di un certo tipo di mulinello veloce nel caso di quello da jig infatti perché nella pesca a gomma c'è bisogno di un mulinello che tiri su velocemente in modo da fare un altro lancio e battere più acqua possibile invece su una canna fatta per il crank ci vuole un mulinello lento perché devi battere lentamente questo infatti prendere una canna per un tipo di pesca e un mulinello per un altro tipo di pesca per fare un misciotto si dice in veneto è veramente controproducente infatti rischierete solo di rovinarvi l'esperienza come capire quale canna è adatta basta andare a leggere sul sito del produttore c'è scritto canna da ger canna da jig canna da eccetera terza ed ultima differenza è l'impugnatura e andiamo a riprendere l'esempio i mulinelli sono più o meno alla stessa altezza la differenza più visibile sicuramente è il grilletto che ci aiuta a tenere la canna e a stancar meno la mano nelle lunghe sessioni ma soprattutto ci permette di avere un'impugnatura migliore quando si usa il mulinello da casting seconda cosa l'impugnatura delle canne è studiato per tenere la mano in un certo modo infatti se prendiamo la canna è fatta per in questa maniera qua se andiamo a tenerla così risulterà scomodo perché la mano non si trova in una posizione a suo agio e andrà solo ad essere controproducente dunque mi raccomando ragazzi lasciate like se vi piace il video condividete il video ai vostri amici per inserire una cosa in più dunque mi raccomando ragazzi superiamo questi 100 like per questo video direi di aver detto tutto se avete dubbi iscrivetevi qua sotto vi ricordo che ho fatto un video sugli azioni delle canne da pesca dunque per questo video è tutto ciao a tutti not really sure but my brain tells me I've been here before don't wanna draw any attention to all the crazy things that I shouldn't mention not really sure the traffic to be there and they don't want to